Dottor Vincenzo Greco, dopo una ricognizione di quelli che sono poi gli organi operativi a quarto, ci si è resi conto della necessità di fare un po' d'ordine nel corpo della protezione civile? Sì, abbiamo deliberato di approvare e di riaggiornare il piano comunale di protezione civile prevedendo tutta una serie di figure che devono sapere in base al piano quali sono i compiti e quali sono le attività che devono essere messe in campo nel momento in cui si dovesse presentare un'emergenza di protezione civile. In ogni caso l'operatività del gruppo è garantita? L'operatività del gruppo è garantita perché abbiamo il responsabile della protezione civile e abbiamo tutta una serie di tecnici che sanno quello che devono fare. Passando ad altro, in vista della cattiva stagione, sono previste azioni di prevenzione? Sì, noi abbiamo costituito un gruppo di pronto intervento per la pulitura delle caditoie che sono quei tombini che devono far defluire l'acqua piovane nei giusti canali e quindi abbiamo fatto fare dei lavori in urgenza di pulitura di queste caditoie e proprio stamattina il subcommissario si farà un giro per le strade in cui sono stati previsti questi lavori e vediamo se sono stati fatti o a che punto è la pulizia di queste caditoie.